L'Amen Sbar reagisce alla prestazione da dimenticare nel derby con Lottigalli, andando vicino a compiere il secondo blitz esterno consecutivo in campionato. Gli Amaranto riescono a superare con caparbietà le difficoltà iniziali dove Alto Pascio era partito a grande ritmo, con Benigni e Paci che guidano i Lucchiesi al 29-14 del primo quarto. In altre occasioni la Sbar si sarebbe disunita, invece gli Aretini hanno rimontato punto su punto, partendo da una difesa più attenta che ha generato anche maggiore fiducia in attacco. Così già all'intervallo lungo L'Amen era riuscita a ricucire fino almeno 6. L'inizio del terzo quarto faceva ben sperare, L'Amen era decisamente in partita, Cutini colpisce ripetutamente nel cuore della difesa avversaria e Castellucci è implacabile dall'arco dei tre punti, 5 su 6, e così le certezze dei padroni di casa cominciano a vacillare. Quando anche Chebede trova un paio di canestri consecutivi, l'inerzia della gara passa nelle magne retine, tanto che L'Amen firma il sorpasso a 4 minuti dalla fine. Nel momento difficile esce fuori Paci, che piazza una tripla mortifera, che ricaccia indietro gli Amaranto. La chiave della gara sono i rimbalzi offensivi di Benini, che hanno portato Alto Passo a segnare 18 punti contro i due Amaranto. Chebede e Castelli da tre punti hanno l'opportunità di mettere con le spalle al muro i padroni di casa, ma i canestri non arrivano. Una difesa decisa porta però L'Amen ad avere la palla del pari a 55 secondi dalla fine. La squadra libera Cutini, che batte il proprio avversario, e appoggia il tabellone. La palla rimbalza beffardemente sul ferro, mentre dall'altra parte un canestro di fiorin di impenetrazione regala la vittoria ad Alto Passo. Il finale, 88-83, testimonia la combattività di un Amen che non si è fatta intimidire dalla caratura dell'avversario. Adesso nell'ultima di andata gli Amaranto ospiteranno Empoli. Serve un cambio di passo anche nelle gare casalinghe, dove fino ad oggi sono mancate quelle certezze che fanno parte del bagaglio della SBA.